Nel video che vediamo viene rappresentata la metodica del rinofiller, nota anche col nome di rinoplastica non chirurgica e si tratta di modificare l'estetica del naso evitando un intervento chirurgico e utilizzando un filler. Nel video viene utilizzato l'acido ialuronico, un filler di tipo riassorbibile, ampiamente utilizzato nell'estetica del viso per aumenti di volume degli zigomi, delle labbra, delle guance e della linea mandibolare. La paziente viene trattata in questo modo per correggere dei difetti di una precedente rinoplastica eseguita alcuni anni fa. Altre indicazioni del trattamento rinofiller sono la correzione del nasosella, l'eliminazione di alcuni tipi di gibbo della piramide nasale. È una metodica ambulatoriale che si esegue nel giro di 5-10 minuti e che ha una durata di circa 9 mesi da ripetibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.